guarda quello che ha fatto Bianchi era da 100 punti Bianchi è accappottata non l'ho fatta, non l'ho passata vieni giù vabbè spingo lui non la molla vabbè spingo è meglio poi è bagnato non vedo che ha qui l'ho avuto a copiare di cazzo bianchi Grazie a tutti Grazie a tutti perché se no ci ho visto è stato dentro in questo che non è più alto in questo c'è lo zaino non riesco c'è lo zaino aspetta che adesso provo non è e di andare su forte di andare su forte ma forte di bilan si 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 allarghi si 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 allarghi si ma stretta non è facile si parla di testa 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 andiamo andiamo è stato da vertigo questo non è per noi non devi fermarti ma in terza e poi la seconda è corta non ci arrivi non ci arrivi e lo so andiamo di là che è sicuramente meglio dove è andato bene andati di là e ora andati andati